L'Italia lo conobbe come Roberto Mariani, lo studente timido e idealista, travolto dalla indolente cialtroneria di Vittorio Gasman nel sorpasso di Dino Risi, o come Marcello Clerici, la gelida e abulica spia fascista del conformista di Bertolucci. E' morto a 91 anni, Jean-Louis Trintignan, amatissimo in tutto il mondo, l'attore francese aveva un posto speciale nella cinematografia italiana, dove aveva iniziato a farsi le ossa dopo gli esordi teatrali. Attratto da personaggi ambigui, impenetrabili e inquietanti, Trintignan è entrato nella storia del cinema francese con Un uomo e una donna di Claude Lelouch e ha vinto in seguito il premio per la migliore interpretazione a Cannes, con Zeta, l'orgia del potere di Costa Gavras. Definitosi un anarco comunista, l'attore è stato celebre anche per le sue dicende private e sentimentali, come la relazione con Brigitte Bardot, i due matrimoni e la morte di due delle tre figlie, la prima, Pauline, deceduta in culla nel 1969, e Maria, uccisa nel 2003 dal compagno Bertrand Cantat, cantante dei Noirs desirs, in un caso che fece inorridire la Francia e tutto il mondo. Rimasto attivo praticamente fino alla fine, nel 1994 fu tra i protagonisti di film Rosso e di Chielowski, mentre al 2019 risale l'ultima pellicola, i migliori anni della nostra vita, diretto ancora da Claude Lelouch.